Salve, sono la moglie di dottor Reina e volevo esprimere la mia soddisfazione per l'operazione Mafia Capitale. Finalmente la classe dirigente di questo paese viene riconosciuta come parte in the grand delle mafie e mi auguro che anche i giudici facciano una riflessione e stavolta pattano direttamente dal tenso grado di giudizio, cioè quello della soluzione, facendoci risparmiare denaro e tempo e mi auguro soprattutto che si apra una serie a riflessione politica per capire perché il nostro modello è vingente. Noi siamo stati i primi a angiodurre la flessibilità nel licenziamento, noi siamo quelli che hanno tenuto fuori le ideologie da questo paese, se ne esce, basta che paghi, è uguale. Siamo stati i primi soprattutto a valorizzare le grandi ricchezze di questo paese, le calamità naturali innanzitutto, ma pure quelle disgraziate dagli immigrati e pure il rifiuto, siamo stati noi. Scusate, è nata l'azionata? Il comune di Roma, pensa alla coincidenza, pronto? Matteo Fini, e qui che so? Ah, dice l'anno messo commissario, commissario, salve. Ah, certo, vi manca del personale, avete bisogno di qualche consiglio su qualcuno di affidabile, certo? Ehi, non è che i lavori si possono fermare. Ma io lo capisco perfettamente, la trasparenza, innanzitutto la trasparenza, ma senza fermare tutto. A questo proposito, Matteo, quando ci incontriamo, la devo portare a una boutique dove fanno queste passamontagne che sono graziosi, questi piaciuzzi, che sono secondo me proprio il simbolo della trasparenza, certo. Hanno fatto anche la linea maschile, si chiama Volta e Gabbana, sono veramente deliziosi.